Pasta Equipment occupa un posto di livello nella progettazione, produzione e installazione di linee automatiche per il settore alimentare, in particolare pasta fresca e piatti pronti. Il processo produttivo assicura qualità del prodotto finito e rispetto delle sue caratteristiche organolettiche. Pasta Equipment utilizza apparati meccanici, elettrici, elettronici e pneumatici, controllati da PLC e computer industriali, che permettono un processo produttivo automatico. Il filmato presenta una linea per la produzione di lasagne automatizzata che produce fino a 2500 kg l'ora. Un gruppo di robot preleva le sfoglie e le deposita nelle vaschette utilizzando una tecnologia di nostra invenzione. Sfoglie e vaschette possono essere di dimensioni e forme diverse. Un PLC coordina l'attività dei disimpilatori, l'avanzamento delle vaschette e i movimenti dei robot. I dosatori sono tutti elettronici, anch'essi comandati da PLC, che imposta la dosata in funzione della ricetta. Il controllo peso nella parte finale della linea regola la pesata dell'ultimo dosatore, espelle le vaschette non a norma e segnala al PLC gli scostamenti tendenziali rispetto al peso ideale, in modo che il PLC aggiusti le dosate precedenti. La linea si completa con il dosatore del formaggio e con i nastri per trasferire il prodotto alle lavorazioni successive.